Ti sei mai chiesto se un videocorso online possa essere uno strumento valido di formazione, apprendimento e crescita per te? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e ti do il benvenuto a questa serie di due video che ho prodotto per fare un po' di chiarezza fra la differenza che c'è fra un videocorso online moderno e strutturato e tutta quella serie di pillole, di video lezioni che puoi trovare sparse in rete, magari su social network tipo YouTube o Facebook. Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo. Quando ero studente io non esistevano i videocorsi, non esisteva internet, non esistevano i social, e quindi non era possibile apprendere a distanza. Al massimo c'era il telefono e le videocassette VHS. Questa era la tecnologia a disposizione quando ero studente io, per cui la mia generazione ha studiato così. Quindi per imparare avevi poche scelte, o ti spostavi, come per esempio nel mio caso che non abitavo in una grande città dove c'erano magari scuole o grandi insegnanti, oppure dovevi arrangiarti da solo, spulciando libri, videocassette, tutto ciò che potevi trovare magari in provincia e ti assicuro che era veramente poco o quasi inesistente, e soprattutto era tutto in lingua inglese. Poi è arrivata la rete, è arrivato YouTube, e quindi tutto questo ha permesso a tante persone di poter pubblicare gratuitamente delle piccole video lezioni in pillole. Anche in questo caso la stragrande maggioranza era tutto in lingua inglese. Poi c'è stato un valido esperimento a cavallo fra gli anni 90 e il 2000, fatto dal CPM, Centro Professione Musica, con l'enciclopedia didattica della batteria, la chitarra, le tastiere, eccetera, che era praticamente un DVD-ROM con un software dentro che conteneva tutte le video lezioni, il materiale per poter studiare, ma aveva un problema. Soffriva di invecchiamento precoce che è la malattia cronica della tecnologia digitale, cioè se cambia il sistema operativo il software non funziona più, per cui anche questo tipo di esperimento con il tempo è andato un po' scemando. Poi finalmente è successo qualcosa di molto interessante. Mentre le scuole di musica cominciavano a perdere colpi e quindi si facevano la guerra, basata soprattutto sullo sconto sulle offerte a prezzi sempre più bassi, nell'ambito aziendale dove la velocità e l'efficienza sono prioritarie, prendeva forma e piede l'e-learning. Questo sistema venne adottato subito anche dalle università per poter far frequentare dei corsi anche a persone che non potevano essere presenti fisicamente in aula, ma in campo musicale tutto questo non ha preso piede e questo credo che sia dovuto soprattutto al fatto che la maggioranza dei musicisti non sono proprio dei grandi imprenditori. Per cui nel frattempo YouTube è dilagato e si è creata un po' di confusione fra e-learning e tutto ciò che potevi trovare in piccoli video su YouTube. Ancora oggi la maggior parte dei musicisti non è ancora bene a conoscenza della grande differenza che c'è fra un videocorso strutturato su una piattaforma e dei semplici video sparsi per esempio su YouTube. Io che soffro di una malattia cronica che si chiama curiosità ho indagato a fondo su questi due sistemi, peraltro per motivi non strettamente legati al mondo musicale e per questo motivo mi sono imbattuto in piattaforme di e-learning che ho approfondito e ho capito che la differenza fra queste piattaforme e i social come YouTube e Facebook è enorme. Ora vorrei spiegarti perché io ho abbracciato la filosofia dell'e-learning moderno e strutturato che coniuga i due aspetti fondamentali dell'apprendimento, cioè quello tradizionale dell'incontro fisico reale fra studente e insegnante e quello virtuale dell'apprendimento a distanza appunto. Sono partito dal concetto che quando ero studente io vivevo a 600 chilometri dallo studio del mio insegnante e in particolare dalla città dove avrei voluto trasferirmi per iniziare questa avventura. Avrei voluto rivedere mille volte gli esercizi che mi dava fatti da lui per poterlo modellare. In ogni caso anche se avessi vissuto nel suo stesso condominio non è che avrei potuto passare il tempo a citofonargli o a telefonargli ed assillarlo tutti i giorni con continue domande richieste. Certo che se avessi potuto avere i video delle lezioni sarebbe stato tutto più facile e rapido. Poi quando ebbi la fortuna e il privilegio di trasferirmi nel 1993 a studiare il Musician Institute di Los Angeles mi venne spiegato che se per qualsiasi motivo io mi fossi assentato da una lezione non c'era nessun problema perché avrei potuto rivedere la registrazione di quella lezione che loro avevano già precedentemente fatto e avevano nei loro archivi e io potevo accedere a queste video lezioni gratuitamente il tutto ancora in VHS ed era il 1993. Poi per qualsiasi domanda o richiesta di chiarimento ogni insegnante era a tua disposizione per due o tre ore alla settimana all'interno della scuola e tu potevi massacrarlo con le tue richieste e domande. Chiamiamole una specie di consulenze. Ecco questa è quella che io chiamo efficienza ma tornando a noi andare a studiare in una scuola a Los Angeles è un privilegio per pochi e io sono stato uno di quei pochi fortunati che ha potuto usufruire di questa occasione ma quello che possiamo fare oggi qua è ricreare almeno in parte virtualmente quel tipo di ambiente. Infatti ora le video lezioni sono dentro un portale che potremmo chiamare scuola e non sono a spasso su youtube o facebook. Se vai in un portale di video lezioni l'insegnante che ha registrato questi video è una persona autorevole di cui tu ti puoi informare per vedere se ha un curriculum, se ha una credibilità, chi è, da dove viene, con chi ha studiato. Capire tutto questo per esempio da un video su youtube non è possibile dovresti fare delle ricerche, vedere chi è il tizio, perdere un sacco di tempo e pensa a fare tutto questo lavoro per ogni video che ti piace o che ti ammalia, ti affascina su youtube. Invece all'interno di questa piattaforma scuola puoi entrare in contatto direttamente con l'insegnante e avere anche delle sue consulenze magari via videochiamata su messenger, su skype, su facetime, ci sono tanti sistemi in digitale che ti permettono di vederti anche a distanza. Questa è la magia della tecnologia digitale della rete che c'è oggi e che allora non c'era. Quindi io ti sto parlando di un cambiamento, non di un miglioramento, di un cambiamento epocale che applicato alla didattica musicale può portare degli enormi vantaggi. Bene, spero di essere stato chiaro nello spiegarti qual è la grande differenza che c'è fra un videocorso strutturato in una piattaforma dedicata e una serie di video sparsi su youtube. Adesso vorrei segnalarti quali sono i vantaggi dei videocorsi online. Per esempio i videocorsi online sono aggiornabili. Per esempio se vai all'università o a una scuola di musica una volta che ti sei diplomato o laureato e sei uscito da quella scuola non è che puoi tornare indietro e rifarla. Invece un videocorso online strutturato è sempre in aggiornamento e tu puoi tornarci tutte le volte che vuoi. In più l'insegnante può avere un controllo istantaneo sui progressi che fa lo studente. Per esempio io nella mia piattaforma The Drumbooster posso vedere ogni singolo studente se completa le lezioni, a che minuto interrompe la visualizzazione dei video, quanto tempo passa fra un login e un altro, posso mettere dei quiz, lui può commentare sotto ogni video e io posso risponderli. In questo modo lui può farmi delle domande e io gli rispondo il più velocemente possibile. In più c'è il blog dove possono andarsi a vedere i video come questo o leggere le mie newsletter. In più possiamo sempre vederci periodicamente in videochiamata con Skype piuttosto che FaceTime o le videochiamate di Messenger o di WhatsApp, quello che vuoi. Insomma oggi l'interazione a distanza con il tuo insegnante, anche visiva, è possibile, è fattibile ed è meglio approfittarne, no? Bene, concludo questa prima parte qui. Nel prossimo video ti spiegherò quali sono altri quattro motivi per cui vale la pena frequentare un videocorso online strutturato. E questi quattro motivi sono, uno, ti faranno risparmiare un sacco di tempo e soldi, due, sono flessibili, tre, sono un ottimo sistema per continuare a formarsi, quattro, possono essere anche divertenti. Bene, con questo è veramente tutto per adesso. Io ti saluto, ti mando un grande abbraccio e ricordati, studia più intelligentemente e non più duramente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!